Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale o benvenuti, sono Divix. È il giorno più importante dell'anno per l'Inter e quindi decido di pubblicare questo video proprio oggi perché voglio sentire una vostra opinione senza farvi influenzare da quello che sarà il risultato di questa sera. Prima di tutto vi dico che non farò analisi tattiche, previsioni, pronostici, giocatori, panchinari, formazioni. Non le voglio fare perché secondo me una finale è una finale, può succedere di tutto. Quindi è inutile sbilanciarsi ed è inutile provare a prevedere il futuro in questo caso. Credo che la migliore cosa sia aspettare e godersi lo spettacolo. Detto questo però avete già detto il titolo, la domanda è molto particolare e prima di questa vi dico quanto conta vincere la finale di questa sera da 1 a 10? 7? 8? 9? 10? Ovviamente ognuno di noi avrà una risposta in testa che magari sarà anche diversa l'uno dall'altro ma se oggi io vi chiedessi preferite vincere la finale di questa sera o far rimanere Antonio Conte sulla panchina dell'Inter anche l'anno prossimo voi cosa scegliereste? Prima di rispondere, come sempre, guardate il video vediamo se riesco a farvi cambiare idea Buona visione! Per iniziare a spiegarvi cosa sto per dirvi bisogna fare un salto temporale e il salto temporale è al 26 maggio 2018 probabilmente questa data non vi dirà niente ma è stata la finale di Champions League appunto del 2018 giocata tra il Liverpool e il Real Madrid ed ecco, guardate questa foto questo è Salah che esce per infortunio dopo il famoso scontro con Sergio Ramos che ha scatenato tantissime polemiche anche nel post partita e ovviamente l'infortunio di Salah ha spezzato completamente i sogni del Liverpool Salah era la star e il Real Madrid poi ha potuto facilmente vincere la gara ecco, io vi chiedo una cosa quel giorno, dopo quella sconfitta dopo quella partita quanti avrebbero scommesso che nel giro di due anni il Liverpool avrebbe conquistato una Champions League perdendo il campionato all'ultimo con Manchester City e una Premier League vinta da assoluta protagonista quanti avrebbero scommesso su queste due vittorie? io credo pochissimi perché generalmente si pensa che una sconfitta soprattutto in finale sia sempre un male assoluto sia sempre alla fine di un ciclo ecco, secondo me ci sono casi e casi prendendo il caso dell'Inter di questa sera io credo che l'analisi che va fatta sulla stagione dell'Inter sia quella che questa squadra non è alla fine di un ciclo questo non è il risultato finale dopo anni di sforzi e combattimenti questo è il primo risultato se guardate per esempio la Juventus dopo quest'anno che è uscita con il Leone si è detto tutti è una squadra arrivata a fine ciclo bisogna sfoltire bisogna ringiovanire bisogna togliere ingaggi pesanti ecco, questo però non è quello che succederà all'Inter l'anno prossimo sia che vinca sia che perda perché l'Inter è una squadra dove il nucleo centrale è formato da giocatori giovani o nel pieno della loro età gli unici due giocatori diciamo a fine carriera sono Andanovic e Godin mentre tutti gli altri parlo dei titolarissimi dei big sono nel pieno della loro età e loro maturità anzi alcuni devono ancora forse esplodere definitivamente come ad esempio Bastoni Barella che sta facendo benissimo e lo stesso Lautaro Martini quindi è giusto pensare che se l'Inter perdesse la finale di questa sera dovrebbe cambiare di nuovo tutto e ricominciare da capo? quanto è importante che si continui a lavorare con questo gruppo e con questo allenatore a mio parere è fondamentale se Conte domani o stasera dopo la partita comunicasse di voler rescindere il contratto con l'Inter io credo che questa sarebbe una notizia pessima per l'Inter e il motivo non è che io ami Conte o quello consideri il migliore allenatore del mondo ma semplicemente perché Conte con questo gruppo ha costruito un inizio di un progetto e per far sì che questo progetto funzioni deve essere portato avanti nel tempo quindi 3, 4, 5 anni se si cambia allenatore ogni anno ovviamente ogni volta arriverà un allenatore nuovo bisogna ricominciare a lavorare su idee nuove su schemi nuovi e probabilmente su giocatori nuovi che richiederà il nuovo allenatore e quindi credo almeno questo è il mio parere che la peggiore notizia questa sera sarebbe quella di sentire Conte comunicare che non sarà più l'allenatore dell'Inter la Coppa quindi non è importante no la Coppa è importantissima perché l'Inter è 10 anni che l'aspetta c'è una crisi di astinenza e si vede anche dai commenti social non tanto perché sia una Champions League non tanto perché sia un campionato perché ovviamente una Europa League vale meno di un campionato o di una Champions League ma è proprio la voglia di alzare un trofeo di farsi vedere nel mondo vincenti ovviamente io mi auguro che l'Inter vinca l'Europa League questa sera e continui con Antonio Conte perché questo accelererebbe moltissimo il processo di sviluppo e di maturità di questa squadra se dovesse perdere probabilmente l'allenatore dovrebbe ricominciare a motivare i giocatori e avrebbe un pochino di lavoro in più ma la strada è quella giusta e secondo me si è visto si è arrivato a un punto dalla Juventus l'Inter ha fatto 82 punti e non li faceva dall'anno di Murigno quando l'Inter fece appunto il triplete e quindi questa è una squadra che ha del potenziale per fare non bene benissimo e bisogna continuare a lavorare in quella strada se si vuole puntare a vittorie più grandi se ci si vuole accontentare va benissimo vincere questa sera cambiare l'allenatore e ripartire da capo ma questo secondo me non è un progetto vincente ovviamente non siamo obbligati a scegliere la mia è soltanto una provocazione che vi sto facendo quindi mi interesserebbe sapere cosa ne pensate voi se foste quindi obbligati a scegliere fra Conte e la Coppa e me lo potete scrivere qua sotto però detto questo vi devo dire cosa penso io visto che me l'avete scritto qualcuno di voi me l'ha scritto sotto qualche commento io credo che Conte non andrà via è un mio pensiero non è che sto paventando notizie o informazioni o soffiate non so nulla io credo che Conte a fine anno andrà a parlare con la dirigenza e chiederà qualcosa in più ci sono state delle divergenze dettagli soprattutto dal fatto che Conte già quest'anno voleva vincere e non è stato accontentato del tutto nel mercato dell'anno scorso e pretende che qualcuno si prenda la responsabilità del fatto che l'Inter non sia poi riuscita a vincere il campionato perché lui ovviamente adesso va orgoglioso il fatto che sia arrivato a un punto nonostante non sia stato accontentato Conte andrà via Conte non andrà via io vi ho già detto io penso che resterà ma semplicemente perché anche i giocatori che sono arrivati sono giocatori con cui lui ha parlato direttamente e si stanno prendendo giocatori per il modulo suo per la sua idea di calcio e quindi mi viene difficile pensare che tutti questi giocatori arrivati per lui si trovino poi l'anno prossimo allenati da un altro allenatore poi nel calcio può succedere di tutto e io non so realmente quando sia grave la frizione fra lui e la società abbiamo visto gli abbracci con Zhang con la dirigenza altrimenti anche lui ieri avrebbe detto resterò qui anche dopo la finale ma una cosa la voglio dire e sono sicuro di questo se Conte dovesse abbandonare la panchina dell'Inter secondo me perderebbe una grandissima occasione perché l'Inter quest'anno costruirà una squadra molto forte per puntare a vincere da subito qualcosa di importante e questo secondo me l'allenatore lo sa e non capita a tutti di avere delle occasioni del genere nella vita sicuramente Conte è un grandissimo allenatore però se ci pensate alla Juventus ha preso una squadra che era arrivata ottava se non sbaglio al Chelsea ha preso una squadra che l'hanno prima aveva fatto malissimo e quindi ha quasi sempre dovuto fare dei miracoli quest'anno probabilmente avrebbe l'occasione di allenare una squadra forte e competitiva da subito per vincere trofei importanti e quindi dato che considero lui una persona molto intelligente penso che alla fine sceglierà di restare all'Inter non è come ho detto una notizia è soltanto una mia opinione vedremo stasera cosa succederà voglio incrociare le dita insieme a voi io ovviamente mi auguro che l'Inter riuscirà a vincere questa sera l'Europa League e che Conte resterà sulla panchina dell'Inter voi invece scrivetemi qua sotto cosa ne pensate voglio sentire la vostra scelta e le vostre motivazioni ci vediamo al prossimo video che spero veramente sarà questa sera dopo la partita se così non fosse vi dico già che settimana prossima ho intenzione di pubblicare due video molto particolari e sono sicuro che vi piaceranno veramente tanto li ho già registrati e li ho già montati quindi ci vediamo al prossimo video se non siete iscriviti al mio canale e vi piace il calcio iscrivetevi ciao ragazzi grazie a tutti